Anche in Abruzzo non si placano le polemiche legate alla mancata riapertura degli impianti per la stagione sciistica. La proroga fatta in extremis della chiusura proietta titoli di coda di una stagione 2021 mai cominciata. Una condizione su cui ora tutti gli operatori del comparto montano chiedono immediati e congrui indennizi per mitigare il più possibile le perdite di una stagione da dimenticare. Per gli operatori di Epratitivo non ci sarà nessun rimborso perché gli impianti di risalita non sarebbero comunque partiti visto l'assenza di un gestore, questo a causa del mancato accordo dopo numerosi tira e molla tra l'ASBUC proprietaria dei terreni dove sono installate le strutture e la Gran Sasso Teramano, la società proprietaria degli impianti ad oggi in liquidazione. La peggiore dell'ipotesi perché non abbiamo potuto aprire gli impianti, non sono potuto aprire gli impianti perché non c'era neanche un gestore, quindi non c'era neanche un gestore per il fatto dell'incapacità di comunicazione, di dialogo tra le parti coinvolte, quindi questo è stato veramente un capitolo che credo che dovremmo tutti imparare e cercare di scordare. E questo è stato un anno con tutto sommato condizioni buone, abbiamo avuto la gente che voleva salire, di fatti appena glielo permisero sono saliti tanta gente in montagna e non si è potuto offrire un servizio completo perché non si potevano disporre degli impianti. Ora, il perché gli impianti stanno chiusi, purtroppo questo è diventato un ping pong che non capisco perché si debba essere arrivati a questo punto. E noi abbiamo avuto una stagione da dimenticare. Una situazione drammatica, parliamo di un indotto molto importante, non solamente per il preditivo, ma per tutta la montagna. Assolutamente, perché si aspetta sempre l'inverno come la seconda ondata di attività economica, che quest'anno è stato, l'estate tutto sommato, ringraziando Dio, è stato buono. L'inverno che poteva continuare in un certo qual modo, dare ossigeno a un'area che è sempre martoriata, non c'è stato, quindi è stato oltre al danno pure la beffa, è così. Grazie.